hola oggi video aggiornamento velocissimo che è stata una giornata incredibilmente distruttiva mi trovo qui e ancora tutto un casino ho dovuto tutto smaltire in maniera estremamente veloce e questo video lo sto facendo per darvi un aggiornamento di quello che sta succedendo e di quello che succederà però prima mi sistemano voilà eccomi microfono check oggi ho fatto ben 9 ore di viaggio con speranza faceva un caldo boia è stato tutto estremamente distruttivo non ho fatto un moto blog perché ho detto se vedo qualcosa di figo lo riprendo non ho visto niente di significante quindi non vi siete persi praticamente nulla nonostante abbia fatto tutte queste ore di viaggio sappiate che non abbiamo fatto più di 300 chilometri devo dire la verità mi sono perso un paio di volte è quello è stato un po un problema però alla fine ci siamo arrivati adesso sto un po rincoglionito nonostante abbia fatto una doccia e mi si è riposato un'oretta sul letto sinceramente voglio fare più chilometri possibile nel più breve tempo possibile in maniera tale da allevarmi questo peso di dover arrivare e la cosa figa e mai faccio la grattata però ormai ci siamo a noi è vicina relativamente ci mancano 500 chilometri che penso di smazzarmi in due barra tre volte spero soltanto due volte e niente è una figata allucinante sapere che ci siamo quasi ci siamo quasi devo tornare il prima possibile alla capitale non solo perché così sono sicuro di essere la capitale poi di poter partire con tutta tranquillità lotto ma in più il motivo principale è che voglio avere un attimo il tempo di assestarmi e di udite udite vendere speranza speranza tra poco ci abbandonerà ancora non ho elaborato concretamente la cosa però accadrà e quindi cosa si fa adesso adesso metto un pantalone che si possa chiamare un pantalone vado un po in giro a cercare del cibo mangio edito questo video vado a dormire domani mattina sveglia alle 5 barra 6 di parte si macinano più chilometri possibile perché siamo quasi vicini alla meta come vi ho detto all'inizio era semplicemente un video aggiornamento per oggi è tutto ci vediamo domani un beso vi do un bonus stasera grande cena pollo pesciolini essiccati arachidi uovo e riso insipido vi do un bonus stasera grande cena pollo pesciolini essiccati arachidi uovo e riso insipido grazie a tutti